Benvenuti alla terza puntata di Caffeina, oggi con noi la numero 16 del Napoli femminile Eleonora Goldoni, benvenuta. Grazie, grazie mille. Oggi una puntata speciale perché saremo nella sede del Caffè Aloia e quindi partiamo subito esordio con il Florenza e il Napoli che ha dimostrato ancora una volta di saper dire la propria, però a sprazzi. Purtroppo il vostro impegno non è bastato, come è stato ritornare in campo e purtroppo come è stato dover incassare un'altra sconfitta? Ritornare in campo posso confessare che è stato emozionante, è successo tutto così repentinamente, tutto così in fretta, però in quel giorno ho voluto provare a contribuire al bene della squadra, dare carica, positività, ci abbiamo provato con tutti noi stesse e c'è tanto, tanto rammarico per il risultato, soprattutto arrivato all'ottantasettesimo minuto, su rigore, quando lotti tutta la partita ad un'intensità così alta e tornare a casa senza punti fa male. Assolutamente, immagino e soprattutto per te che comunque hai dimostrato anche quando eri lontana di essere una figura trascinante per la squadra, hai una leadership che si sente, quindi come è stato per te doverlo vivere in questi mesi lontana e quindi non poter combattere con le tue compagne sul campo di gioco? Non è stato per niente semplice, io soffro molto il rimanere ferma a guardare, non poter fare nulla, però quel non poter fare nulla ho cercato di trasformarlo, perché in realtà qualcosa si può sempre dare ed è per quello che ho cercato di essere vicina alle compagne con una pacca sulla spalla, una parola di conforto prima, durante o dopo un allenamento o una partita, alla fine penso che la squadra, il gruppo sia anche questo, quindi c'è lavoro dentro al campo o c'è lavoro fuori dal campo e l'importante è che tutte le ragazze possano stare bene. Totalmente d'accordo, poi non sono mancati anche i tuoi incoraggiamenti sui social che comunque ad oggi sono un canale importante dove non sei mai mancata, ci sono sempre stati comunque i tuoi in bocca al lupo per le compagne, tra l'altro a proposito delle tue compagne purtroppo il tuo rientro è coinciso anche con la lesione del crociato di Deppi con la quale tu tra l'altro hai stato dato anche un bel rapporto, quindi un Napoli che necessariamente si dovrà reinventare e che è contro un Napoli che nonostante la sconfitta con il Milan è una squadra importante, i vari prestiti dalla Juve, quindi cosa può dire ancora questo Napoli? Può davvero ripartire da qui e può comunque il tuo ritorno rappresentare un punto di svolta anche in questo senso? Io penso che questo Napoli ancora debba farsi sentire, sta iniziando a parlare perché i progressi ci sono e io lo vedo tutti i giorni osservando le compagne, purtroppo per tre mesi l'ho fatto fuori dal campo, adesso sono lì su quel prato verde ad allenarmi con loro ma io sono sicura che questa squadra abbia sostanza e dobbiamo esprimerlo concretamente e già questo sabato sarà una grandissima prova, l'assenza di Deppi è un'assenza importante, in questi tre mesi non conto le volte in cui ci siamo guardate e ci siamo dette amica immaginati quando tu farei questo, io sarò lì intorno a te, correremo insieme, magari ci abbracciamo eccetera eccetera, quindi fa male però il Napoli si rinventerà, lo stiamo già facendo, stiamo già lavorando su diversi dettagli e sabato siamo pronti a metterlo in campo. Questo è quello che conta, tra l'altro un altro piccolo riferimento alla partita che c'è stata la settimana scorsa, il tuo più grande tifoso, tuo padre che è venuto praticamente a vedere il tuo esordio in maglia azzurra, lui è una figura fondamentale per la tua carriera e penso che non ci sia nulla di più bello dell'avere un genitore dalla tua parte soprattutto quando si ha la forza e il coraggio di voler rincorrere un proprio sogno che poi è sempre un po' un punto interrogativo rispetto ad una carriera che può essere magari più semplice. Quanto è importante, soprattutto nel calcio femminile che sta ancora crescendo, avere l'appoggio della propria famiglia? È di fondamentale importanza, io mi ritengo tanto tanto fortunata per avere questo tipo di rapporto con mio papà che come, non so come tu lo sappia ma è vero. Io ho i miei informatori, mi sono informata, te l'ho detto che insomma, ti ho studiata. Sì, sabato mattina alle 6 del mattino mi scrive un messaggio, mi dice lei o io parto e io gli ho detto papà ma perché parti, non so neanche se puoi entrare a vedere la partita, non so neanche se giocherò. Mi sono allenata ieri dopo tre mesi, lui mi fa no no io me lo sento, io devo esserci, devo esserci. E questo devo esserci così com'è, lui c'è stato negli scorsi tre mesi, per noi è tanto importante perché sono quegli affetti che poi ci riportiamo in campo e sappiamo il perché lo facciamo. Ma che soprattutto penso ti trasmettano poi i valori della persona e della calciatrice che poi sei in campo perché poi credo che ci sia una linea sottile che poi si incontra e che poi rappresenta l'atleta che uno diventa. Io l'ho toccato sulla mia pelle perché anche io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha appoggiato e un padre che poi mi ha fatto appassionare al calcio e quindi forse per questo siamo qui a parlarne e quindi immagino quanto sia stato bello e importante per te averlo vicino in questo momento. Sì, fa la differenza perché capisci la ragione per la quale agisci. E quando lo fai per un familiare, quando lo fai soprattutto per il papà o la mamma che fin dai primi calci ci sono sempre stati, c'è quella motivazione, quella voglia in più di fare bene. Che poi tra l'altro tu hai vissuto in America, hai studiato lì e poi sei tornata in Italia. È un po' il percorso inverso di un atleta soprattutto che vuole affermarsi in questo mondo perché sappiamo che le realtà all'estero forse sono purtroppo ancora un po' più avanti, magari non per molto ancora. Ma credi quindi il tuo ritorno è correlato magari alla fiducia che tu riponi nel calcio femminile italiano? Credi che realmente possa continuare questa scesa e quindi continuare ad affermarsi come sta facendo? Ne sono sicura, il mio desiderio di tornare in Italia dopo quattro anni in America è stato proprio una piena fiducia nel fatto che il campionato italiano possa elevarsi ai livelli di Germania, di Francia o anche di quello degli Stati Uniti. Ho fatto un'esperienza stupenda in America, ho assaporato proprio il grande interesse, la grande passione e popolarità di questo sport, però ho anche allo stesso tempo desiderato tanto il tornare in Italia a giocare nella massima serie quando finalmente anche il calcio femminile sta prendendo piede. E ci stai riuscendo, quindi è stato un piacere fare questa chiacchierata con te Leonora e adesso devi sapere che noi concludiamo ogni puntata con un aforismo, un aneddoto sul caffè e che lega il caffè alla città di Napoli. Io non so tu che uso o abuso fai di caffè qui a Napoli, sei una consumatrice? Sì, sì. Ok, perfetto. Ecco, a proposito di questo Thomas Tins Elliot affermava che ho misurato la mia vita a cucchiaini di caffè e con questa chiudiamo e noi ci vediamo con la quarta puntata di Caffeina. Grazie.